Shakira sta male, rinviato il primo concerto del suo tour Shakira cancella la prima data europea del suo tour. A causa di un problema alle corde vocali, Shakira ha dovuto cancellare la prima data europea del suo Eldorado World Tour. Il concerto era previsto per oggi 8 novembre a Colonia, in Germania. La cantante colombiana ha comunicato la triste notizia tramite un post sul suo profilo Instagram. . Queste le parole di Shakira, i miei medici mi hanno ordinato di stare a riposo per evitare danni maggiori alle corde vocali che potrebbero tenermi lontana dai palchi in futuro. Sono devastata di non poter esibirmi nel primo show di Colm, in Germania. La cantante ha poi aggiunto, amo i miei sostenitori tedeschi e non vedo l'ora di condividere con voi il mio primo show. . Il team della Live Nation è già all'opera per trovare una nuova data affinché possa tornare qui a esibirmi da voi in uno show, che sento sarà il migliore di sempre. . . Shakira pensa già alle prossime date del tour. . Shakira sta già riprogrammando la data del concerto, ha infatti affermato, sto facendo il massimo per recuperare ed essere il 10 novembre sul palco di Parigi. Aspetto il semaforo verde dei dottori. . . Intanto, in Italia i fan si preparano ad assistere al concerto dell'amata cantante, la cui data è prevista il prossimo 3 dicembre al Mediolanum Forum di Milano. .